Oggi si va sull'altra sponda Ah veicente, sono Arus e benvenuti su City Skyline, la serie I Sindaci Dunque, in questa puntata edificeremo sull'altra sponda, però prima Vediamo un attimo di fare un paio di cose Alexis Horton mi ha chiesto di costruire un condominio e nominarlo Horton's House E mi raccomando, non ti infortunare mentre getti la spazzatura Ora, vediamo di fare subito un paio di cose Per edificare su questo lato abbiamo bisogno di creare dei collegamenti che si tolgono nell'autostrada Questa è la cosa che so fare peggio in assoluto su questo gioco Quindi abbiate un attimo di pazienza, che io non sono per niente bravo Dunque, allora, io dovrei fare una cosa del genere Sollevarmi di un poco Se non sbaglio Così E poi dopo Uscire Facendo così Però qua non c'è abbastanza spazio Allora, rifacciamo Rifacciamo subito Intanto togliamo subito il coso così riesco a vedere Cosa sto realizzando Facciamo questa rampa E la sua uscita Che la facciamo piuttosto normale Facciamo più in fuori Che magari così abbiamo più uno spazio di curva Forse devo già iniziare la salita Però Ok Però non importa Ce l'abbiamo fatto lo stesso Oh, sì Sì, sì, sì Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ok Meno tre metri Ma noi facciamo Zero metri così Normali, normali Ok Dunque Una cosa abbiamo fatto Questo qua è per uscire Poi dobbiamo anche fare un'altra cosa Per uscire qui Aspetta Vediamo un attimo il concept Che aveva fatto avionauta Che avionauta fa sempre delle belle cose Dunque qua c'è una via senso unico Va fatto così, ne? Allora Poi Facciamo una bella curva Su questo lato Magari con una curva un po' più stretta Ok, così E poi dopo le collegheremo assieme Questi due sensi unici Che faranno da rampa Invece per Buttarsi dentro Per uscire Poche parole Facciamo Non è semplice Facciamo direttamente così Perfetto E l'altro Facciamo Qualcosa di sensazionale Che si eleverà dal terreno Così Solo che qua non c'è abbastanza spazio Ecco Preso lo spazio O sto facendo per la prima volta in mia vita Un'intersezione non sfanculata Oh mio dio Ce la sto facendo ragazzi Ce la sto facendo Ce l'ho fatta Ho creato un'intersezione Non so come ce l'ho fatta Però ce l'ho fatta Va bene Poi Da qui Dunque partiamo con delle strade A una via Semplice Semplice Oppure possiamo farle di due vie Però non consiglio mai le strade di due vie Perché creano troppo traffico per niente Quindi facciamo una strada Da una via E andiamo avanti tranquilli con questa strada Che poi dopo la riuniremo con un'altra Oppure qua posso fare direttamente una piccola rotonda Però a me non piacciono le rotonde Almeno non così tanto Però qua mi sembra la cosa più necessaria Potrei fare Vediamo una rotonda buona nei preset Sperando che ci possa essere Non c'è mai una rotonda buona nei preset Che cosa dico Ora Ok così 10 UMA 10 UMA Non so se sono UMA Oppure unità di spostamento Non importa Però facciamo 10 su 10 Perfect Engineering È una Mod che mi hanno consigliato Che ho scoperto solo facendo questa serie Che mi hanno consigliato gli altri partecipanti Mi pare Break to play O Avionauta Non Avionauta O Ice the Brave Uno dei loro due Non mi ricordo chi di preciso Però Gran bella mod Gran bella mod A me sta piacendo tantissimo Ok E qua E qua Ehi Ti ho tagliato fuori Faccio anche fare un piccolo taglio Ok Perfetto Perfetto Ora Invece qua Per entrare Ci buttiamo così E qua facciamo le due rampe Che si collegano ovviamente Oh Qua c'è subito un parco E qua E qua rimane sempre Il problema Che anche su questo lato Abbiamo un paio di problemi Con Per quanto riguarda Il valore del terreno Anche se qua c'è un po' di alta densità Anche qui Però qua facciamo un parco diverso Anzi un parco un po' più grande Perché no Così Fantastico Ora Vediamo Di fare Il mio piano Diabolico Dunque Ho abbastanza soldi Per fare una piccola cosa Ho comprato un ass Ho comprato Ho scaricato un assets E questo assets È l'Elsergrom Basilica Che è una basilica ungherese Cosa c'entra? Perché Voglio fare La Basilica Di Superga Voglio fare Qua nella collina di Superga E costruirci sopra Una Basilica Piuttosto carina L'unica cosa Che dobbiamo fare una strada Che possa portare fin su E questo È il problema Principale Dunque Ora Così Facciamo La strada Che si Destreggia Sulla collina E Intanto Possiamo sentire Vari Vari voci Ora Facciamo Guarda che bel tunnel Che ha fatto Continuiamo a fare Questa strada Che porterà in cima Sperando Che possa portare in cima Forse Forse Qualco Efficiente Di Curva È troppo Basso E con curva Non intendo La prolaccia Polacca Ok Oh Finalmente Siamo riusciti A Fare qualcosa Forse Forse è meglio Che la curva Un po' La Facciamo Un po' Più Larga Abbiamo fatto Lo stesso Tipo Di strada Sì Ah ma questa è una strada Senso unico Ho fatto una strada Per tutto il tempo Una strada Senso unico Ah no È due sensi Va più che bene Una stradina piccola Va Sì Va più che bene Così Ok 90 gradi Devonti per un po' Di unità Ok così E qua invece Ci sarà Direttamente la basilica In questa zona Aspettiamo di avere un po' Di soldi E vediamo come possiamo Realizzarla Forse qui ho fatto una curva Un po' inutile Veramente un po' Tanto inutile Ah qua si potrebbe anche fare Un museo d'arte moderna Tra l'altro Sì Qua ci sta Ci sta senza dubbio Che guarda Tutta la valle Fantastico Ho tentato di Ricostruirla Il più fedelmente possibile Mi pare che la curva Fosse un po' così Ovviamente Il tragetto per arrivare Sopra la basilica Un po' elevato Intanto Direi in questa zona qui Volevo fare Delle Degli edifici A Di lusso Per abitazioni Un po' di lusso E vediamo qua Se ho abbastanza soldi No Ancora bisogno Di 30.000 Noi aspettiamo Manca pochissimo Intanto Per avere questi 30.000 Comunque qua volevo fare Degli edifici Di lusso E non so come fare Però un collegamento Tra le due città Perché comunque Prendere l'autostrada È sempre Un bel macello E l'ideale Ovviamente Sarebbe avere Delle imbarcazioni Che posso portare Da un lato all'altro Però Non tutti hanno Questi privilegi In questo mondo Ok Vediamo se va più che bene Oh si Ci sta Ci sta Ci sta Quanto è bella E noi le chiamiamo Aspetta Aumentiamo un po' Paintbrush Colline di Superga Ok Bellissimo Ovviamente Non è più o meno La stessa cosa Cioè È molto diversa È bellissima La basilica Di Superga Ovviamente Io non sono Yuvarra Ho fatto Il possibile Però abbiamo Reso onore Alla nostra Alla mia entità Piemontese Dunque Ora iniziamo Subito a fare D'altro canto È una strada Litorale Che possa Costeggiare Tutto Il fiume Che per l'altro L'ho anche fatta Corretta Perché dall'altro Lato del Po Quindi è giusto Questa città qui E Torino Un po' Più Colline Ok Facciamo così Che costeggia No abbiamo abbastanza soldi Però non importa Iniziamo subito a fare Delle case Qua Un po' Incasinato Il terreno Eh già Perché c'è troppo Di slivello Tanto iniziamo a fare case Su questo blocco Sinistro Vedete case A basse Densità Non voglio fare Case D'altissima densità Ah già Qua abbiamo il problema Dell'elettricità Dunque Abbiamo pochi soldi Quindi aspettiamo un attimo Volevo fare delle Siccome siamo già su una collina Pensavo Possiamo sfruttare La collina Per produrre Un po' Di elettricità Però Più che altro Su questa zona Ma sto pensando Non mi serve un cazzo Perché effettivamente Produco già abbastanza Elettricità Basta Solo Trovare un collegamento E il problema È trovare Un collegamento Di elettricità Dunque Facciamo così Qua facciamo Un collegamento Elettrico Così Così E infine Ci colleghiamo Voi da qua Colleghiamo Elettricità Fino a superga Poi l'acqua L'acqua Naturalmente La farò passare Senza troppi problemi E vediamo La basilica Di superga Di notte Oh mio dio Che bella Che bella Ok Ora Qua la richiesta Di fare edifici È piuttosto elevata Peccato Peccato Che Diventa proprio Un problema Fare delle strade Giusto per vedere Qua No Non ci sta Assolutamente Qua c'è un dislivello Ah sì Qua mi sono dimenticato Di distruggere Scusate Poi Vediamo Di fare case Su tutto il lato Se ci stanno Ovviamente E poi dopo Potrei anche fare Un tragitto Dell'autobus Per collegare Le due città Si potrebbe fare Una metro Si potrebbe fare Una metro Ma non so se basta E qua Dobbiamo collegare Per forza Tutto Ok Fantastico Ora Per rendere La zona Un po' più interessante Stavo pensando Di fare Un Fisher Pot Un posto In cui si pesca Qua ovviamente Abbiamo bisogno Del collegamento Di una strada E la strada Direi Possiamo farla partire Lo stesso Da qui Fare una piccola strada Che comunque Passa un po' più Sul litorale Stile murazzi Per farci capire Ok Così Poi qua Manca l'elettricità Naturalmente Non ce l'ho fatto caso E l'acqua Manca sempre Qualcosa Qui Ora Vediamo di fare Altre case Se ci stanno Naturalmente Faccio che fare Un bel quadrato Ok Poi qua Nasceranno Altre case Più in là Se c'è Abbastanza Spazio E qua No Riescono comunque A costruire Uno spazio Se si ingegnano Un po' Ora Queste piccole case Che stanno Nascendo dal nulla Fantastico Direi Fare questa Questa zona Qui volevo fare Una zona Intrattenimento Vicino al mare Con un po' Di case Ovviamente Poi Fishing tour Oh si Ci sta Qua aumenta Comunque La Valore del terreno Della zona Si Continua a mancare L'acqua Naturalmente E qua Potevo anche Togliere Forse L'elettricità Fino a qui Perché Se arriva le case Può arrivare anche Dal resto E qua Ci siamo Dimenticati Di collegare l'acqua Che belle casette Che stanno Nascendo in questa Piccola zona Dunque Ora Stiamo edificando La nuova area E abbiamo bisogno Però di linee Degli autobus Abbiamo bisogno Di un po' Di linee Dunque Sto pensando Voi Voi Inteso Molto Generale Riuscite A far partire Direttamente Una linea Dalla stazione Degli autobus Che avete consigliato Grazie Non lo sapevo E farla arrivare Fino a qui Oh si Che ce la fate Però Non capisco Il significato Di far partire Una linea Dal Dal coso Degli autobus Tanto vale Farle partire Da dove Partono Già Di solito Quindi Vediamo Create a new line E questa linea Arriverà Fino a questa rotonda Solo che Una linea Che si ferma In una rotonda Mi sa di qualcosa Di veramente brutto Quindi A questa evenienza Farò Una piccola cosa Potrei fare Una piccola stazione Tipo qui Però qua dovrei Tirare giù Un paio di cose Fare così Qua viene tirata giù Direttamente L'elettricità Però Vi sviciate In un modo Dell'altro Vediamo Come fare Troverò un modo Possiamo Perché Non c'è più Eccolo Possiamo fare così Direttamente Ok E qua facciamo Finalmente La fermata Dell'autobus Ok Però fare sempre Queste linee qua È uno Strazio Ok Linea che arriva Fino A qui E poi dopo Torno indietro Questa linea qua Fa un bel Tragitto Un tragitto Che veramente Non invidio E questa linea qua Servirà a collegare Le due zone Sono contento Che riescono Anche a passare Oltre i limiti Di cittadini Finalmente Queste linee Maledette E qua Abbiamo fatto La basilica Di superga Ora La collina Anche Dobbiamo migliorare Per un po' La collina E direi Di Aggiungere Qualche Alberello Se è possibile Ma no Facciamo così Ah Credo che qua Non ci sono abbastanza luci Ho paura Che ci possa essere Qualche incidente aereo Ah Se qualcuno Poi dopo Riesce a edificare Che ne sono Un aeroporto Sempre nella zona Di superga Diventa Veramente Il mio idolo Perverso Nel cuore Ora Qua voglio anche fare Poi dopo tutto Il complesso Abitativo E non so come Lo chiamerò Consigliate nei commenti Oltretutto Anche se volete Che qualcosa Venga rinominato A vostro nome Tranquilla Colline di superga La Non la chiamerò In nessun altro modo Superga Nel cuore Ora Qua Oh manca Elettricità Perché Perché siamo arrivati al giorno E noi spendiamo di meno Per questo No È andato bene lo stesso Cos'è successo? Qua a un certo punto è andata via l'elettricità A caso Poi sto anche pensando Per edificare questa zona qui Che comunque non sarà una zona troppo grande Perché non abbiamo troppo spazio edificabile È necessario Ah già Poi dobbiamo mettere anche noi i servizi Qua Dobbiamo mettere Stazioni Cose varie Polizia Senza dubbio Più vicino alla rotonda possibile Creerà traffico Però comunque un traffico necessario Poi Clinica medica Sì E scuole Scuole abbiamo bisogno Eh qua sono un po' Reclusi dal mondo Abbiamo bisogno Di costruire una scuola In teoria In teoria Però se riusciamo a migliorare Tanto gli spostamenti Non dovrebbe nemmeno essere Troppo un problema Cioè se riusciamo a far sì Che le persone Possano passare Da una città all'altra Questo ovviamente Non diventa Per niente Un problema Solo che gli spostamenti Sono belli lunghi Immagino Ecco qua sì Che uno Se abita in questa zona Diventa Completamente Abbandonato Dal mondo Tuttavia Vedremo un po' Cosa fare Intanto Posso fare qualche edificio Particolare Giusto Soprabbellire Le varie zone So che Ci sono gli zoo Adesso anche Tipo Tipo potrei fare uno zoo A caso O Una fontana fantastica Non lo so Si potrebbe fare uno zoo Vedremo un attimo Cosa fare Ditemi nei commenti Intanto Questa piccola zona È appena nata E ditemi i piani Anzitutto Su come Rinominare la città Questa nuova parte della città Su Cosa costruire E tanti altri piani Che avete in mente Quindi Per questa puntata è tutto Ci sentiamo alla prossima Ciao Ciao